Fagliare, assolutamente rappresentare una svolta una svolta in tanti parti a partire dai nostri rapporti personali che in questi anni si sono contraddistinti sicuramente in maniera negativa bene, io sono felicissimo di essere oggi io come Movimento 2 Siciliano di essere qui a Gaeta perché sono convinto che finalmente parte di qua un'azione forte non voglio usare la valora unitaria troppo difficile, troppo complicata troppo impegnativa ma qualcosa di questo genere perché ci credo? vedete, abbiamo parlato errone, errone di quelli che siamo stati di quelli che eravamo di quanto ci abbiamo rimesso noi abbiamo il dovere di correre velocemente ai tempi d'oggi lo dico, questo oggi lo posso dire a Gaeta perché mi sono sentito in questi anni sempre un po' escluso perché io faccio politica io faccio politica perché credo in quello che è stata la nostra storia e in quello che dobbiamo tornare necessariamente ad essere e quindi su questo parlo di questa mente però cosa è mancato in questi anni? Gennaro noi ci siamo sentiti maledettamente soli abbiamo fatto tante iniziative l'abbiamo fatto per il territorio per il territorio delle due Sicilie è quello che è del territorio siamo andati a portare aiuti allo San siamo andati a portare aiuti nel San abbiamo fatto appelli per aiutare la nostra gente abbandonata dallo Stato Carlo Abidea e noi ci conosciamo dai tempi di Lella dai primi passi del Comitato Combroso e abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare ci sentiamo soli oggi noi del Movimento tuo Siciliano non denunciamo questo ma perché lo denunciamo con lo spirito non di polinizare ma con il nuovo spirito costruttivo che questa gaeta ci sta imponendo noi trattiamo tutto dalla cultura per quelli che sono i nostri modestissimi mezzi ai fatti quotidiani stiamo cercando di lottare per la riapertura del puro di Molfetta ad esempio cos'è il puro di Molfetta? quanti di voi sanno cosa c'è nel puro di Molfetta? c'è la nitria borbonica adesso non devo dilungarmi lo scoprirete con il tempo perché adesso sul puro di Molfetta vorrei tanto il tuo aiuto il vostro aiuto perché deve riaprire un altro un altro sito storico che è importantissimo soprattutto nella terra di Puglia che nella quale abbiamo gravi difficoltà non solo perché dobbiamo combattere col sistema italiano ma perché c'è quell'ombra di murata che ci troviamo ovunque stiamo combattendo per l'acqua del Pertusillo che ci sta avvenendo milioni di pugliesi di lucari anche su questo ci sentiamo solo abbiamo bisogno come stasera di essere tanti se vogliamo vincere questa battaglia sul penale dell'acqua del Pertusillo e permettetemi di dire io non voglio ricordare soltanto i morti del passato quelli che ci hanno rimesso tanto per noi dobbiamo ricordare quello che ci sta succedendo adesso i morti della terra dei fuochi i morti del lino di Pertusillo e i morti dell'acqua del Pertusillo e su queste cose io dico dobbiamo combattere per la rivisitazione storica per affermare la verità storica per la dignità del nostro popolo ma dobbiamo lottare per il nostro popolo anche lo Stato attuale io non credo più all'Italia ma non fa nessuna differenza se devo combattere il contra a Medio Colaccino che la penso diversamente da me non farò nessuna critica su questo e che sono convinto che comunque la strada è quella io chiudo questo breve intervento ricordando anch'io Nicola Scala che è stato il mio maestro anche lui ma mi piace ricordarlo con una parola che mi diceva sempre nelle orecce che all'epoca non capivo RIVOLUZIONI ma fino all'ultima vimmo a stare che si murimma ma nata rifiora è una bestemmia basta libertà è una bestemmia basta libertà è una bestemmia